Circa 200 espositori provenienti anche da fuori regione per la ventunesima edizione della mostra scambio di auto e moto d'epoca che si è tenuta questa mattina, domenica a Campi Salentina, negli spazi adiacenti alla villa comunale. Una rassegna di settore che ormai si attesta come uno degli appuntamenti più importanti ed attesi da tutti gli appassionati di motori. La manifestazione organizzata anche quest'anno dall'Associazione di Promozione Turistica e Culturale Salento Italy di Campi, presieduta da Ilio Palmariggi, con il patrocinio del Comune di Campi Salentina della provincia di Lecce e dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, ha visto la presenza di modelli di autovetture e motociclette da collezione di assoluto valore, che hanno riscosso l'ammirazione dei tantissimi visitatori che per tutta la mattinata hanno letteralmente preso d'assalto gli spazi espositivi. Particolarmente nutrita poi la presenza di biciclette antiche, visto che la mostra a scambio da tre anni si è aperta anche ai velocipedi. Non è mancato come da consuetudine il mercatino di pezzi di ricambio per auto, moto e bici di ogni genere e marca. Una giuria qualificata al termine della manifestazione ha premiato i modelli meglio ricostruiti e restaurati. Soddisfazione per la riuscita dell'evento da parte del vice sindaco di Campi Alessandra Schiavone. Un non successo notevole che Campi si distingue a livello territoriale. Vedo numerose rappresentanze della provincia del Brindisino contente della riuscita impeccabile dell'iniziativa. Naturalmente un plauso va all'organizzazione che si distingue ogni anno in questo senso. Commento ampiamente positivo anche per l'assessore della provincia di Lecce Massimo Como, uno degli ideatori nei primi anni 90 della rassegna. 21 anni e non dimostrarli perché poi comunque nonostante siano passati un ventennio questa manifestazione riesce comunque a manifestare ancora tutto il suo interesse da parte degli appassionati. È una manifestazione che io non riesco a guardare sicuramente con gli occhi del rappresentante delle istituzioni perché l'ho creata io insieme a qualche amico 21 anni fa e devo dire è stata anche una sfida che abbiamo vinto. Se è vero come è vero che continua a riscuotere un grande successo di pubblico e di appassionati. Come più volte ho avuto modo di ribadire la passione per la moto, per la macchina d'epoca non è solo il possederlo, il mezzo e soprattutto proprio una questione di storia, di cultura che si rinnova di anno in anno perché poi la Vespa, la Ferrari, l'Alfa Romeo sono marchi conosciuti nel mondo che hanno raccontato una storia gloriosa del nostro paese e sarebbe un peccato disperdere questo patrimonio di storia e di cultura che noi per tanti anni abbiamo coltivato. Oggi questa manifestazione ha tutte le caratteristiche per poter fare il salto di qualità. Bisogna investire molto sui pezzi di ricambio perché è quello che crea la passione, al di là del pezzo in sé è proprio il ricambio che crea la passione. Quindi la proposta che io farei è innanzitutto quella di sdoppiare le macchine dalle moto, quindi creare due iniziative magari una in primavera e l'altra mantenerla in autunno come si fa adesso e poi cercare comunque di contattare i grandi espositori del nord che davvero hanno tanto ma tanto da vendere e sarebbero tanto ricercati dagli appassionati, quello bisognerebbe fare. Di modelli ce ne sono sempre talmente tanti ma a parte i marchi blasonati, Ducati, Moto Guzzi è bello vedere col passare degli anni moto che 30 anni fa non avevano nessun valore che oggi invece sono molto richieste e apprezzate. C'era un piccolo ciclomotore, un Minarelli a marce degli anni 70 del Fornaio. Ecco è bello vedere questi oggetti che ci riportano un po' ad una tradizione, ad una storia che o ai noi per molti aspetti ormai è stata superata. Quindi comunque la presenza di motociclette quest'anno è stata notevole e di grandissima qualità.